Nella Pinacoteca San Domenico la Fondazione Carifano propone un nuovo appuntamento con l'arte e la solidarietà. Direttamente dal Museo di Force, antico comune marchigiano, duramente colpito dal terremoto, cinque tavole cinquecentesche di Simone De Magistris, raffiguranti le storie dell'infanzia di Cristo. La valenza storico e artistica di queste opere ed inestimabile valore e ora sono a disposizione per un mese in tutta la loro bellezza. La Fondazione Carifano in collaborazione con la Soprintendenza e la Diocesi di Fano e San Benedetto ha con non poche difficoltà ed in tempi strettissimi con grande sobrietà allestito questa mostra con una valenza di solidarietà. È l'occasione per molti per visitare, per vedere, per gustare queste bellissime opere perché sono opere di grande valore che mai avremo modo di vedere perché sono depositi a Force, questo paesino lontano da noi è sconosciuto ai più insomma e avremo modo di vederlo, avremo modo anche di, se vogliamo, di contribuire a questa iniziativa. A tutti i presenti consegneremo un Deplian con la storia di queste opere e con la storia di Simone De Magistris. È un altro intervento che facciamo, ripeto, di solidarietà verso queste persone che hanno sofferto e che soffrono ancora e di solidarietà anche per il recupero dei beni artistici e storici.